Ci sarà anche la figlia di Tiziano Terzani, Saskia, nella giuria della sesta edizione dell'Edera Film Festival, manifestazione che prende il via mercoledì 17 luglio per concludersi sabato 20. La rassegna dà voce ai giovani talenti, alle loro storie e ai loro racconti, 36 film realizzati da registi Under 35 proiettati in concorso, 6 lunghi, 6 documentari e 12 corti provenienti da tutta Europa, per ribadire la vocazione globale del Festival. Promosso dall'Associazione Culturale Orizzonti in collaborazione con il Cinema Edra, il Festival proporrà anche quest'anno 12 talenti emergenti del territorio nella sezione Focus Nord-Est. Quest'anno Giuliana Fantoni, promossa direttrice artistica, raccoglie anche la sfida di essere diventata da poco Presidente della Federazione Italiana Cinema d'Essè. Sono due scommesse che vanno più o meno nella stessa direzione, quella di portare il cinema d'Essè più vicino ai giovani. Questo è un po' il mio obiettivo, sia nella mia visione che ho come Presidente Fice Nazionale che qui. Sabato l'omaggio alla figura altissima di Tiziano Terzani, a 20 anni dalla morte, con la proiezione del film Il viaggio della vita, di Mario Zanotti. È una grande emozione perché io sono stata invitata a far parte della giuria e poi dopo mi è stato detto che fuori concorso sarebbe stato presentato anche il documentario e trovo che il tempismo sia bellissimo perché per me è la prima volta che faccio parte della giuria. Il Festival si avvale della direzione artistica della regista Gloria Aura Bortolini e dello storico del cinema Giuseppe Borrone. Uno sforzo organizzativo consistente che ogni anno orizzonti mette in campo con grande passione. Ci impegniamo a portare la cultura del cinema, a portare il pubblico in sala e poi per organizzare un festival ovviamente serve fare rete. E come sempre non manca il supporto dell'amministrazione. Il comune di Treviso e la città di Treviso è particolarmente grata che questo festival si stia radicando in maniera così importante nel tessuto cittadino.